La ripartenza per quanto concerne l'allenatore da Marco Bernacchia in casa bucinese non appare troppo una scommessa visti gli ottimi risultati del trainer già recentemente a Lucignano. Lo scossone tecnico con l'uscita di scena di Simoni serviva proprio a dare ulteriori stimoli ad un ambiente che aveva, parole di Giuseppe Curcio, necessità soprattutto di nuove certezze. Dopo il rimescolamento dei ruoli e il passaggio dello scranno di presidente dall'ottesso Curcio alla moglie Francesca Martini Le basi poste sono ad oggi relativamente alle conferme che si avranno in seno invece alla rosa-arancio-verde. Prosperi che sarà anche il DS, Verdi, Pavani, Mecocci, Inghetta, Mugelli, Sacconi, tutti destinati a rimanere a fronte però delle certe partenze come Gardeschi, Pestelli, Gazziano e Adaperuta. Prosperi e Bernacchia intensificheranno i colloqui personali nei prossimi giorni cercando prima di tutto di completare le quote per poi concentrarsi sui giocatori di esperienza in quanto dopo un anno con salvezza all'ultima giornata e di play-out della stagione da poco conclusa la richiesta è di riuscire a passare una prima parte del 2016 con maggiore tranquillità.